Ciao a tutti, seconda gara di italiano, molto difficile, tre prove speciali belle, però dal secondo giro hanno iniziato a piovere, prima parte di gara dove mi sono trovato bene con lavori speciali, infatti sono venuti fuori anche nei buoni tempi, purtroppo poi il meteo non è stato dalla nostra parte, è iniziato a piovere e ha reso tutto il più difficile. E niente, continueremo ad allenarci, faremo meglio alla prossima, ma le voglio ringraziare il team, il motore club e tutti gli sporti. Ciao! Ciao!